Era nell'aria, ora è ufficiale. Lucas Cantoro giocherà con Lisernia anche nella prossima stagione. Calciatore e società hanno raggiunto l'accordo economico. Cantoro, la quarta esperienza in maia bianco-celeste, fungerà da chioccia per i giovani. Sarà il leader dello spogliatoio, il simbolo della rinascita, ma non solo. Dovrà garantire golle giocate per riportare Lisernia dove merita in Serie D. Reduce da una stagione poco brillante come il resto della squadra, Cantoro vuole riscattarsi e chiudere in bellezza. Classe 79, 37 anni portati benissimo, l'argentino Isernino d'adozione dovrebbe essere impiegato da mister Di Rienzo nel ruolo di prima punta con gli aboni alle spalle. Certo non ha più l'agilità di un tempo, ma il sinistro sa sempre di dinamite. Di Rienzo, dicevamo, potrebbe avanzare la sua posizione in campo con il compito quasi esclusivo di trovare la conclusione lungo tutto il fronte di attacco. A lui chiederà poco pressing e tanti gol, quelli necessari per riscattare una stagione iniziata bene e finita malissimo che ha lasciato molto amaro in bocca ai tifosi. Con Cantoro la campagna acquisti dell'Isernia può considerarsi quasi conclusa. All'appello mancherebbe solo qualche altro giocatore, nulla di importante, visto che i ruoli chiave sono stati occupati. Di Rienzo potrà contare su una rosa ampia, composta da giocatori di grande esperienza e qualità, Iaboni, Cantoro, Mingione e da un manipolo di giovani che hanno voglia di mettersi in mostra e di contribuire alla causa correndo e lottando su ogni pallone. Insomma ci sono tutte le condizioni per arrivare fino in fondo. Macchia, Vasto Girardi e Venafro sono avvertiti. Grazie a tutti.